Messina e i suoi autobus elettrici saranno protagonisti alla puntata di Linea Verde in onda su Rai 1 il prossimo 12 gennaio. La rete ammiraglia della Rai nei giorni scorsi ha fatto un giro sui nuovi mezzi da Missioni Zero. Messina è infatti tra le prime città italiane a dotarsi di un'intera flotta di 16 bus elettrici per il trasporto pubblico urbano. Si tratta di mezzi già arrivati in Riva allo Stretto lo scorso ottobre grazie a un'idea portata avanti all'amministrazione a Corintia, in particolare dall'ex vice sindaco Cacciola. La troupe della trasmissione televisiva Linea Verde Live di Rai 1 ha testato su strada uno dei nuovi autobus facente parte della flotta elettrica. Il servizio, che si è svolto durante una delle prove tecniche dimostrative, ha visto la troupe di Linea Verde girare delle scene da inserire nella trasmissione che andrà in onda su Rai 1. Il programma, condotto da Chiara Giallonardo e Marcello Masi per la regia di Moira Anastagi di Robiland, andrà in onda esattamente sabato 12 gennaio. Le riprese televisive sono state effettuate con il supporto tecnico-logistico dello staff comunicazione del Pommetro Messina e dell'ufficio Film Commission Città di Messina.